Vittoria è in trasferta alla prima di campionato per l'Amen Scuola Basque Terezio che si imposta nell'ostico campo di La Spezia con il punteggio di 62-47. Gli Amaranto hanno il merito di condurre per tutto l'arco dei 40 minuti e contenendo i tentativi di recupero dei padroni di casa nel finale. L'inizio della partita è frizzante e Bullis e Ramirez non permettono alla SBA di scappare via anche perché i ragazzi di coach e evangelisti perdono molti palloni nel primo quarto di gioco e cedono agli avversari ben 5 rimbalzi offensivi. Nonostante questo l'Amen è avanti 15-14 dopo 10 minuti e poi allunga nella seconda frazione. Rossi comincia a colpire con continuità la difesa avversaria ed il divario delle due formazioni si allarga fino a 32-24 nell'intervallo. Le basse percentuali di realizzazione condizionano notevolmente il terzo quarto con l'Amen che ha il merito di guadagnare qualche altro punticino vincendo il parziale per 8-5. Nell'ultima frazione la SBA gestisce con attenzione il vantaggio. Rossi realizza i punti della sicurezza per Giamaranto che contengono anche il buon momento offensivo di Ligali. Alla fine la differenza fra le due squadre si attesta sui 15 punti 62-47 regalando al quintetto di coach e evangelisti i primi due punti in campionato. Grazie. Grazie.